Arriva il Sandonato e per il Montevarche è l'ultima spiaggia. Contro la squadra fiorentina c'è solo un risultato che può tenere accesa la fiammella e questo mister Banchini lo sa bene. Sappiamo che il nostro percorso è un percorso difficile, è un'impresa difficile, però io penso che un'altra volta la squadra è andata fuori casa, è andata in trasferta, ha voglia di proporre la propria idea, siamo fiduciosi, i ragazzi stanno lavorando bene. La partita di Recanati deve essere cancellata, soprattutto per quello che è stato sbagliato, lasciare certi spazi è stato fatale per gli Aquilotti. Noi sul 2 a 1 domenica talmente tanto ci credevamo di portare a casa un risultato positivo, qualcuno si è nervosito e ha un po' diciamo di frustrazione mollato, gli ultimi 10 minuti dovevamo stare invece concentrati e magari sperare in un 2 a 2 un risultato di pareggio che quando non puoi perdere a punticino a punticino fai quello che ti serve per salvarti. Contro Ubaldi e compagni tornerà a disposizione Ita Leng, l'attaccante più in forma del momento. Ritorna di sicuro Ita Leng, ha smaltito la squalifica, è finita, basta il ragazzo che ultimamente è cresciuto molto nel gioco spalla alla porta e ci aiuta, poi se fa gol ovviamente è un aspetto determinante, sicuramente darà una mano ai suoi compagni. Il San Donato è una neopromossa, espressione di una piccola realtà che tra l'altro ha una buona tradizione con il rosso-blu, ma il Montevarchi sa quello che deve fare. Il San Donato comunque è una squadra che viene da dei risultati negativi, quindi ha fatto un buon campionato, si vorranno riscattare, è comunque un derby, sono delle squadre neopromosse che si sono organizzate e lavorano per rimanere in serie C, le partite sono tutte difficili. Siamo consapevoli che gli errori non vanno ripetuti, ripeto ragazzi sono sempre disponibili, è un gruppo unito e sapremo fare la nostra partita.